State cadendo nella trappola di Elon Musk, 28 giugno 1971, e in questo video te lo dimostro, ok? Conosco a livello energetico, ho studiato molto bene quest'uomo, e pertanto ti farò vedere le cose da un'altra prospettiva, ti farò vedere come ragiona un genio. Allora, innanzitutto parliamo di numerologia, guardiamo, quindi Elon Musk, come secondo nome, Elon Reeve Musk, 28 giugno 1971, ma cosa voglio dire? Il 28 vuol dire fai disfa, vuol dire che lui a livello caratteriale è una persona che crea e che distrugge. Il karma 7, logicamente, è un karma anche legato alla fede, tanto che lui parla sempre di Dio, poi magari bisogna capire quale Dio, e questo è un altro discorso. Fase numero 2, a livello numerologico come firma è molto bella, re della comunicazione messaggero, Elon Reeve Musk, Elon Musk invece è uno che dove arriva distrugge e poi ricrea. Stiamo parlando di un ragazzino che gioca con i videogame, con il Commodore VIC-20, un maestro nel fare i videogiochi, il numero uno al mondo nel farli, tanto che da piccolo ha proprio fatto anche un videogame, quando aveva 12 anni ha guadagnato anche dei soldi, ma non sapevano chi gliel'ha venduti, che chi lo faceva in realtà era un bambino. Stiamo parlando di un ragazzino che a nove anni è stato buttato giù dalle scale dai suoi amici, perché gli facevano bullismo, perché magari rompeva i maroni, no? E poverino, ha fatto più di una settimana di coma, perché ha rischiato la vita. E chi lo ha salvato? I computer. Un papà molto violento, un papà che ha picchiato in una libiera la mamma, un papà che era molto soppressivo con Elon Musk. Tanto che, nato nel 1971, anno 18, nel 1989, anni dopo, età ciclica, anno 18, la mamma è andata in Canada, voleva portarselo via, ma lui ha deciso di rimanere col padre, tanto che poi, nel 1989, sempre anno 18, sempre anno 9, sempre con la ciclicità del 9, lui ha deciso di andare in America, passando per il Canada, Canada, poi America. È diventato cittadino americano, anche perché in questo caso il nonno era già americano. Ma stiamo parlando con una persona che è intelligentissima, che è legata allo spirito di sopravvivenza, il computer a livello associativo gli hanno salvato la vita, pertanto lui ne è diventato il re e stiamo parlando con una persona che è interessato all'Italia, ama l'Italia. Ti dico di più, ti dice niente che lui vuole portare a Marte l'antico vinaio, i panini di Firenze? Ti dice niente che ama Firenze? Lui si sente un uomo del rinascimento, si sente un uomo di grande cambiamento e pertanto è legato alla città di Firenze, quest'anno poi è andato anche a Roma oltre a Firenze e l'Italia la guarda con grandi interesse. In America vuole fare una grande rivoluzione adesso, sempre che gliela facciano fare, perché deve fare attenzione perché può anche rischiare la vita, come l'ha rischiata a 9 anni, la può rischiare anche l'anno prossimo, perché entra in un'età ciclica, quindi al posto suo dico è meglio che ti proteggi, è meglio che ti guardi intorno da persone che magari vogliono il tuo male, ma sembra che lui non ne voglia sapere. Però io dico, Elon, fai attenzione. Fase numero 2. Non avete capito che vi sta facendo una trappola? Lui non ragiona in un modo analitico, a lui non gliene frega niente se qualcuno esce da Twitter, meglio, per lui lo sta pulendo Twitter, come quando è entrato in Twitter che poi è entrato con il lavandino per lavarsi le mani, per pulirsi le mani, perché vuole fare pulizia. Pertanto lui vuole fare pulizia dove va? Quando prende un'azienda, pulizia, pulizia, perché gli ricorda chi? L'autorità, il padre, la giustizia di questo padre soppressivo. Allora io dico che chi esce da Twitter ha perso, game over, sei caduto nella sua trappola. Perché la cosa più bella invece è assecondarlo, seguire il vento, perché lui in questo momento ha del potere e vuole cercare di soffrirlo al meglio. Ok? Mi piace Elon Musk, ma se c'è una persona che vorrei conoscere oggi è lui, perché reputo che sia una persona molto intelligente, un bambino, tanto che va a farsi le feste anche con la mamma, però è geniale. Ovviamente è un genio che deve cercare di, bisogna saperlo gestire, no? Dialogare con lui, no? Col suo stesso dialogo, no? Parlare con lui attraverso le metafore, come fa lui, presentandosi con un lavandino, con un cesso, piuttosto che, piuttosto che, no? Bene. Diciamo che lui, io sono dell'avviso, l'Italia deve fare molta attenzione, sono molto felice che la Meloni non gli abbia risposto, anche perché lui e la Meloni, secondo me, gli piace molto, lo capisco a livello numerologico, i numeri di Elon Musk, i numeri della Meloni, 15 gennaio 1977, 15 karma 31, che va d'accordo con Elon Musk, secondo me ci sarà un grande dialogo, un grande interesse tra i due, la Meloni però sta cercando un po' di dire, ma questo qui che cavolo fa? Chi è che vuole provocare? Tenete presente che legge causa effetto, lancio un sasso per vedere la reazione, azione-reazione causa effetto, e lui osserva tutto quanto questo, si sta divertendo. L'Italia merita questa lezione di Elon Musk? Secondo me, sì, perché l'Italia deve diventare un paese positivo, è un paese dei geni, è un paese dei santi, è un paese degli artisti. Lui si sente come un Lorenzo il Magnifico, ok? Ve lo ricordate nel 1500 il grande Lorenzo il Magnifico, o un grande medici, guardate anche la sua fisionomia, guardate la sua postura, guardate quello che fa. È proprio, si attesa in questi modi qui. Pertanto non biasimo che magari nei prossimi periodi si può anche comprare una casa su Firenze o Roma, gli interessa molto questo, e gli interessa pulire l'Italia. Ricordate quello che vi dico, gli interesserà l'Italia, pulire l'Italia, dopo l'America penserà all'Italia. Non dobbiamo cadere in questo tranello, ma dobbiamo cercare di seguire il vento, dobbiamo prendere il meglio. Stiamo parlando con uno che tra poco non troverà l'iPhone a 1800 euro, ma lui ti farà un telefonino a 200-300 euro, perché vuole prendere anche quel mercato. Fa bene? Ma secondo me sì. Magari ce ne fossero di tanti geni come lui, invece gli italiani sono una manica di criticoni, che criticano, che criticano, che criticano, che sono soppressivi, siccome lui è già stato soppresso dal padre da piccolo, ce l'ha qui, e questo ti, scusami del termine, scusami del francesismo, questo ti incula, questo ti frega, questo non ha pietà, perché questi soppressivi non gli piacciono. Basta guardare che la sinistra, i democratici americani, che sono stati veramente dei polli, perché lui era dalla parte di Biden, quando lo hanno snobbato, quando lo hanno preso un po' per i fondelli, lui tracte e via, no? Twitter per lui è stata una mossa geniale, perché voleva il potere della comunicazione, pertanto è già tutto stabilito da lui. Ha un cervello che viaggia a 200 all'ora costante, quindi non ragiona come le persone ragionano in un modo analitico, non gliene frega niente di quello che dici. Vede la vita sotto un'altra prospettiva. In ogni caso sono certo che Elon Musk avverrà in Italia più presto, sono certo che gli interessa tanto l'Italia, ma sono anche certo che questo sarà un grande stimolo per risvegliare noi italiani, noi geni italiani, incominciando da me stesso, perché noi siamo forti e dobbiamo tirare fuori la positività. Quindi viva la positività e Elon Musk. Bene, come dice Alberto Assordi, mi hai provocato e io te magno, ma in senso positivo, non in senso negativo. Uscire da Twitter, un grandissimo errore, fa parte del suo videogame. Svegliamoci fuori e impariamo a vedere la vita attraverso un dialogo metaforico, associativo, numerologico, non di certo analitico. Ricordiamoci che la mente mente, il cuore non mente. Musk guarda con un altro sguardo. impariamo a guardare con i suoi occhi e imparerai a vedere la vita da un'altra prospettiva. Ciao.